In questo modulo saranno affrontati i seguenti temi, la società contemporanea come società della conoscenza, il paradigma delle competenze, definizione e analisi delle competenze, le competenze chiave, le tipologie di competenze, la valutazione delle competenze nell'Associazione Italiana Biblioteche, gli standard formativi e professionali di riferimento. Nel sistema economico contemporaneo il sapere diventa caratteristica necessaria per il progresso e lo sviluppo economico e produttivo. Diventa fondamentale per la crescita economica, la diffusione delle informazioni, la conoscenza delle nuove tecnologie e dei rapidi puntamenti nel mondo del lavoro e della produzione. Nella società della conoscenza gli individui devono continuamente accedere alle informazioni per elaborarle e costruire nuova conoscenza. Si parla, infatti, dello sviluppo della capacità di imparare a imparare lungo tutto l'arco della vita, consapevolmente e autonomamente, anche al di fuori, di contesti formalmente deputati all'istruzione e alla formazione. Le politiche europee riguardanti lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione, a partire dalla strategia di Lisbona del 2000, puntano a valorizzare l'apprendimento, che diventa elemento centrale su cui ripensare l'intera società, integrando la formazione e il lavoro, affinché si favorisca la creazione di una cittadinanza e di una forza lavoro sempre più qualificata e capaci di affrontare le sfide future. Nelle politiche comunitarie diventa prioritario investire nello sviluppo delle competenze, che devono essere sempre più specializzate, e per far questo bisogna che l'apprendimento avvenga lungo tutto l'arco della vita, un concetto ben espresso dal termine lifelong learning. In questo nuovo scenario europeo, basato sul paradigma delle competenze, l'individuo attivo diventa l'unico responsabile dell'acquisizione della conoscenza attraverso percorsi di apprendimento nuovi, in cui assume rilievo all'esperienza e lo scambio con altri individui in contesti che siano anche esterni a quelli tradizionalmente preposti ad attività di istruzione e formazione, come la scuola e le università, che forniscono una formazione di tipo formale. L'apprendimento dunque può generarsi anche in contesti familiari, quotidiani, in questo caso parliamo di formazione di tipo informale, oppure in contesti quali l'associazionismo professionale o lavorativi, come nel caso della formazione non formale o di tipo on the job. Tutto ciò per garantire a chiunque la capacità di imparare lungo il corso della vita. In una prospettiva di crescita personale, civica, sociale e occupazionale, l'apprendimento di tipo informale e non formale assumono il pari dignità rispetto ai sistemi formativi consolidati nell'acquisizione e sviluppo delle competenze. Con il documento del 2001 realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente, la Commissione europea dà una definizione di apprendimento permanente come qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi momento della vita volta a migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze in una prospettiva personale, civica, sociale e occupazionale. Nel modello sociale europeo ciò che conta è la reale acquisizione delle competenze e non tanto il percorso seguito per arrivare ad acquisirle, che come abbiamo visto può essere di diversa tipologia, formale, non formale o informale. Il nuovo paradigma delle competenze si afferma con la raccomandazione del Consiglio europeo del 20 dicembre 2012, che ha per tema la convalida dell'apprendimento non formale e informale. Per superare la crisi economica che attanaia l'Europa e rilanciare l'occupazione, in particolare tra i giovani, il riconoscimento e la convalida delle conoscenze, abilità e competenze derivanti anche dall'apprendimento esperienziale diventa obiettivo prioritario per sbloccare il mercato del lavoro, promuovendo la mobilità e rafforzando la crescita economica. Al fine di dare alle persone le opportunità di dimostrare quanto hanno appreso al di fuori dell'istruzione e della formazione formali e di avvalirsi di tali apprendimento per la carriera professionale, il Consiglio invita gli Stati membri a istituire entro il 2018 i sistemi nazionali per la convalida dell'apprendimento non formale e informale, che consentano alle persone, attraverso la convalida dei loro apprendimenti acquisiti anche mediante risorse educative aperte, di ottenere una qualifica completa o parziale, collegata ai quadri nazionali ed europei delle qualifiche di riferimento. Il 22 maggio 2018 il Consiglio d'Europa ha adottato una nuova raccomandazione sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, che modifica ed integra quella precedente del 2006 e che pone l'accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile. Le competenze chiave sono quelli di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, per l'occupabilità, l'inclusione sociale, per avere uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Esse si sviluppano in una prospettiva di apprendimento permanente, dalla prima infanzia a tutta la vita adulta, mediante l'apprendimento formale, non formale e informale, in tutti i contesti, compresi la famiglia, la scuola, il luogo di lavoro, il vicinato e altre comunità. Promuovere lo sviluppo delle competenze è uno degli obiettivi per l'occupazione, la giustizia, l'inclusione sociale e la cittadinanza attiva. In un mondo in rapido cambiamento ed estremamente interconnesso e digitale, ogni persona inoltre avrà la necessità di possedere un ampio spettro di abilità e competenze e dovrà svilupparle ininterrottamente nel corso della vita, esplorando anche nuove modalità di apprendimento, come per esempio l'e-learning. Il concetto di competenza è definito come una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti, in cui l'atteggiamento viene inteso quale disposizione e mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni. Le otto competenze individuate modificano in parte l'assetto definito già nel 2006 e sono la competenza alfabetica funzionale, la competenza multilinguistica, competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, la competenza digitale, la competenza personale, sociale e la capacità di imparare ad imparare, la competenza in materia di cittadinanza, la competenza imprenditoriale, la competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Si raccomanda agli stati membri di innalzare il livello soprattutto delle competenze di base, alfabetiche, matematiche digitali e di sostenere lo sviluppo delle competenze personali, sociali e della capacità di imparare a imparare, cioè la capacità di riflettere su se stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, quale posto migliore per apprendere e partecipare alla società in una prospettiva di apprendimento permanente. Nel Decreto Legislativo 13 2013, concernente le norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti, non formali e informali, e degli standard minimi di servizio del Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, vengono date diverse definizioni terminologiche e tra queste quella di competenza, definita come la comprovata capacità di utilizzare in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale un insieme strutturato di conoscenze e abilità acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale. Nel contesto delle QF invece, il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia, vale a dire la capacità di applicare le conoscenze in modo autonomo e responsabile. Le competenze sono determinate dall'integrazione di conoscenze e abilità. Le conoscenze o il sapere è il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono l'insieme di fatti, principi, teorie e pratiche che riguardano un ambito di lavoro o di studio. Nel contesto delle QF, le conoscenze sono descritte come teoriche o pratiche. Per abilità, il saper fare, si intende la capacità di applicare le conoscenze e di usare il know-how per portare a termine i compiti e risolvere i problemi. Nel contesto delle QF, le abilità sono descritte come cognitive, comprendenti l'uso del pensiero logico, intuitivo e creativo, e pratiche, comprendenti la mononità e l'uso di metodi, materiali, strumenti e utensili. Vi è poi un terzo sapere che viene riconosciuto fondamentale nel processo di sviluppo e acquisizione delle competenze, il saper essere. Il saper essere è definito da tutti quegli atteggiamenti che descrivono la disposizione e la mentalità per agire o reagire a idee, persone o situazioni. Sono le cosiddette competenze trasversali che hanno a che fare con le caratteristiche personali dell'individuo. Le competenze vengono articolate, secondo la definizione ISFOL, in tre macro-categorie, le competenze di base, le competenze trasversali, le competenze tecnico-professionali. Le competenze di base sono il sapere minimo, cioè quelle che garantiscono alla persona la cittadinanza e sono ritenute fondamentali per la sua occupabilità e il prerequisito per l'accesso alla formazione. Sono quelle che aiutano a collocarsi positivamente in un posto di lavoro. Si tratta di saperi organizzativi, legislativi, economici, linguistici, che sono potenzialmente utilizzabili dal soggetto in diversi contesti e possono essere sviluppabili a diversi livelli. Le competenze trasversali riguardano sempre la persona a livello cognitivo e relazionale. Non sono connessi ad un'attività specifica, ma entrano in gioco in tutte le situazioni, consentono comportamenti professionali e sono cruciali per la trasferibilità delle competenze in attività differenti. Il livello di successo sul lavoro nel prossimo futuro non sarà dato tanto dal tipo di professione intrapresa, ma dalla maturazione nei singoli di doti da mettere in campo nell'attività lavorativa, ad esempio creatività ed innovazione nel gestire la propria attività professionale, il problem solving, comprensione della complessità dei vari linguaggi, comunicazione, negoziazione ed adattabilità. Le competenze tecnico-professionali sono l'insieme di conoscenze e capacità connesse all'esercizio efficace di determinate attività professionali nei diversi settori. Queste competenze sono desunte dalle caratteristiche e dal contenuto del lavoro. Nel processo di riconoscimento e validazione delle competenze bisogna fare delle distinzioni. AIB rilascia attestati, documenti che attestano le competenze, da apprendimento non formale e informale. AIB non certifica le competenze, ma le attesta. In base all'articolo 2 del Decreto Legislativo 13 2013, possono riconoscere e validare le competenze con il rilascio di certificazioni e quindi di un attestato formale solo gli enti pubblici titolari e gli enti pubblici titolati. La certificazione è un processo attraverso il quale viene rilasciato un certificato, un diploma o un titolo di studio che attesta formalmente che un organismo competente ha accertato e convalidato un insieme di risultati dell'apprendimento, conoscenze, abilità, competenze, conseguiti da un individuo rispetto a uno standard prestabilito. L'attestazione è invece frutto di una transazione tra un individuo e un secondo soggetto, frequentemente un'agenzia formativa o un'impresa, riconducibile ad un contesto ben definito ma non istituzionale. L'importanza della formazione continua per gli iscritti alle associazioni professionali non organizzate in ordine collegi è affermata negli articoli 2 e 5 della Legge 4 2013. Le associazioni professionali sono tenute ad assicurare la formazione permanente dei propri associati, anche attraverso specifiche iniziative e a stabilire requisiti precisi per essere iscritti all'associazione, i titoli di studio e le competenze previste da accertare attraverso strumenti idonei. Garantiscono inoltre la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla formazione permanente degli associati. Nell'Associazione Italiana Biblioteche, la struttura tecnico-scientifica dedicata alla pianificazione dell'offerta formativa diretta agli associati è l'Osservatorio Formazione, che svolge funzioni di coordinamento generale dell'attività formativa, fornisce sostegno e assistenza alle sezioni nelle fasi di ideazione e realizzazione corsi, monitora l'uniformità strutturale e qualitativa dell'offerta formativa. L'attestato di qualità dei servizi prestati dai soci può essere rilasciato ai sensi della Legge 4 2013, articoli 4, 7 e 8, ma non è comunque requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. L'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità è presente sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico. Come previsto dall'articolo 9 del vigente Statuto AIB, l'articolo 10 del Regolamento di Iscrizione prescrive che la formazione continua costituisce un dovere dell'associato. Al fine della verifica quinquennale dell'iscrizione, gli associati sono tenuti a documentare la partecipazione a iniziative formative quali corsi, seminari, incontri, congressi, conferenze, viaggi di studio, attività culturali e ogni altra iniziativa volta all'aggiornamento e alla qualificazione professionale. La Commissione di attestazione AIB, le cui funzioni sono previste dall'articolo 7 dello Statuto e dall'articolo 4 del Regolamento di Iscrizione, ha tra i suoi compiti quello di deliberare sulle richieste di iscrizione o di conferma dell'iscrizione a seguito di verifica quinquennale e di provvedere, in collaborazione con le sezioni regionali, alla tenuta e all'aggiornamento annuale dell'elenco degli associati. Le procedure per la verifica quinquennale di requisiti di iscrizione sono esplicitate nell'articolo 9 del Regolamento di Iscrizione. La Segreteria Nazionale, entro il 30 novembre del 5 anno di iscrizione, invita gli associati a presentare la richiesta di verifica quinquennale. Entro il 15 gennaio 2019, gli associati in scadenza sono tenuti a presentare alla Commissione la richiesta di verifica quinquennale dell'iscrizione. La Commissione, in collaborazione con la sezione regionale di appartenenza, effettua il controllo sull'effettivo svolgimento dell'attività lavorativa e verifica la rispondenza delle attività di aggiornamento e qualificazione ai criteri agli standard stabiliti dall'AIB ed elencati nelle linee guida per la formazione continua e nella direttiva sulla formazione continua. L'associato riceverà comunicazione, entro il termine del 28 febbraio, dell'esito della verifica effettuata dalla Commissione. L'associato che non presentasse richiesta di verifica quinquennale è sospeso dall'elenco a partire dal 15 marzo successivo e, nel caso in cui non provveda, entro il 31 dicembre verrà cancellato dall'elenco degli associati. L'aggiornamento continuo per AIB ha lo scopo di migliorare le competenze degli associati per una qualificazione concreta della professione e per fornire servizi adeguati nei confronti di un pubblico sempre più differenziato. L'offerta formativa AIB si basa su criteri di qualità e di uniformità strutturale, anche al fine di comparare i risultati delle prove di valutazione e le attestazioni rilasciate dalle varie sezioni. Oltre a seminari, workshop e corsi di aggiornamento, AIB ha predisposto un modello di corsi definito a quattro fasi e che si basa sul sistema delle competenze. Caratteristica di questi corsi è il riferimento a standard educativi formativi che descrivono le conoscenze e le capacità che le persone devono ottenere come risultato di un apprendimento e stabiliscono come verificare anche tali apprendimenti. Tali standard devono essere formulati in termini di unità di competenza e risultati dell'apprendimento. L'unità di competenza è intesa come insieme di capacità e conoscenze necessarie a svolgere attività professionali che producono risultati osservabili e valutabili. Sono i cosiddetti standard professionali. I risultati dell'apprendimento invece sono collegati ai livelli EQF e valutati secondo processi e criteri fissati con i crediti ECVET. Sono gli standard formativi e si riferiscono a tutto ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo di apprendimento. Vediamo in dettaglio le quattro fasi di cui è composto un corso con attestazione delle competenze. Si parte innanzitutto dall'analisi dei bisogni in base ai quali si struttura il disegno del corso, il cui modello è depositato sul sito AIBweb. La prima cosa da fare quando si progetta un corso è l'indagine su fabbisogni formativi del contesto di riferimento, in base ai quali si stabiliscono scopo, obiettivi e risultati formativi desiderati. Bisogna quindi porsi alcune domande, per esempio quale scopo persegue con il corso la sezione di riferimento. Nel disegno del corso basato sulle competenze, le sezioni 8 e 9 si riferiscono agli obiettivi formativi da raggiungere alla fine del corso e quindi chi progetta l'iniziativa formativa dovrà stabilire quali sono le competenze che si vogliono ottenere dal corso, quali conoscenze avranno appreso i partecipanti e cosa dovranno essere capaci di fare alla fine del corso e di conseguenza anche quale metodologia didattica è più adatta per raggiungere gli obiettivi formativi. La seconda fase ha a che fare con l'effettiva erogazione e fruizione del corso. In questa fase, in base agli argomenti e al programma da trattare, si progettano le modalità didattiche e di fruizione del corso adeguate per facilitare il raggiungimento degli obiettivi. Vengono predisposti quindi il materiale didattico, la struttura delle lezioni e gli esercizi da erogare ai partecipanti. Un corso con attestazione delle competenze può essere erogato in diverse modalità, in presenza con lezioni frontali, totalmente a distanza o ancora in modalità mista attraverso la piattaforma per l'e-learning AIP Formazione.it. Il docente, programma esercitazioni di gruppo ed individuali da somministrare a partecipanti, i momenti di autoapprendimento, quindi di studio individuale e di autovalutazione e momenti di apprendimento collaborativo, utili per la costruzione collaborativa di conoscenza attraverso lo scambio di esperienze tra i corsisti. La terza fase è relativa alla valutazione e follow-up del corso, mentre l'ultima fase comprende la prova finale e l'attestazione dell'apprendimento. Per valutare il raggiungimento degli obiettivi formativi e le competenze acquisite dai partecipanti, il docente prepara questionari di verifica sul grado di soddisfazione raggiunto e questionari di valutazione dell'apprendimento. La valutazione formativa avviene durante l'erogazione e fruizione del corso in tempo reale per aiutare docenti e partecipanti ad identificare quanto si stia realmente imparando. L'autovalutazione è un processo di apprendimento guidato dai formatori e fornisce un aiuto nella valutazione dell'apprendimento per il docente. Gli obiettivi formativi sono il risultato atteso dai corsi, osservabile e valutabile. Per ogni corso devono essere descritti come capacità e conoscenze relative alle unità di competenza. In assenza di un repertorio unico nazionale formulato in termini di unità di competenza, AIBA adotta come standard formativi le sette aree formative OF correlate al riferimento delle competenze della norma UNI sulla figura del bibliotecario. Il follow-up serve a distanza di tempo ad analizzare quanto è stato importante il corso ai fini pratici nel contesto lavorativo. Nei corsi a quattro fasi, ciascuna unità di competenza deve essere correlata alle corrispondenti competenze descritte dalla norma UNI sulla figura professionale del bibliotecario e deve essere descritta con le conoscenze e capacità adeguate a livello del corso progettato, che può essere di base, intermedio o avanzato, facendo riferimento alla tassonomia di Bloom che comprende una gerarchia di verbi da utilizzare proprio per stabilire obiettivi formativi misurabili e chiari. Le capacità riguardano i processi cognitivi ed attuativi che sono necessari per mettere in pratica le conoscenze in ambiti professionali e devono essere introdotte dalla locuzione Essere in grado di. Le conoscenze invece riguardano i saperi di riferimento del professionista e sono introdotte dalla locuzione Conoscere. Gli obiettivi di apprendimento inoltre devono essere correlati ai livelli EQF e ai relativi descrittori di conoscenze, abilità e competenze. Analizziamo nel dettaglio gli standard professionali e formativi di riferimento adottati da AIB in base alla Legge 4 2013 ed elencati nelle linee guida per la formazione continua e nella direttiva. AIB adotta lo standard professionale della norma UNI 11.535 sulla figura professionale del bibliotecario, alla cui predisposizione la nostra associazione ha contribuito attivamente per la delineazione di alcuni profili professionali. Gli standard formativi comprendono le sette aree formative dell'offerta formativa AIB che definiscono gli obiettivi di apprendimento della formazione continua e che devono essere collegati ai livelli EQF valutati secondo processi criteri fissati con i punti crediti ECVET. La norma UNI, le sette aree formative e i livelli EQF sono fra loro correlati. La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza tecnico-culturale per lo svolgimento dell'attività professionale di bibliotecario, classificabili a seconda del grado di responsabilità e specializzazione ai livelli 6 e 7 nel contesto dell'EQF. La figura di base del bibliotecario prevede il livello 6, che corrisponde per il sistema italiano delle qualificazioni alla laurea o diploma accademico di primo livello. La norma UNI descrive quali sono i compiti e le attività inerenti alla professione del bibliotecario e fornisce indicazioni per i processi di valutazione e di convalida delle conoscenze, abilità e competenze. Insieme alla legge 4 2013 sulle professioni non organizzate, per la prima volta i bibliotecari hanno la possibilità di valorizzare il proprio bagaglio di conoscenze e competenze e di vedere il proprio ruolo professionale definito e riconoscibile. Nella norma si legge che il bibliotecario esercita attività di carattere professionale nell'ambito della mediazione culturale, dell'orientamento alla ricerca e dell'alfabetizzazione informativa, della formazione, organizzazione e conservazione dei documenti, dei servizi bibliografici e di documentazione, della promozione di una biblioteca o sistema bibliotecario, dello studio e della ricerca nel campo della biblioteconomia e delle discipline affini. Si afferma inoltre che i bibliotecari svolgono un'attività a forte contenuto intellettuale e pertanto necessitano di una specifica preparazione culturale, scientifica e metodologica ottenuta mediante percorsi di istruzione e formazione teorica e pratica. L'aggiornamento continuo costituisce una parte necessaria alla professione. È bibliotecario che ha un profilo conforme a cinque compiti elencati nel paragrafo 4.2.1 o svolge almeno una delle attività specifiche elencate nel paragrafo 4.2.2. Le attività del bibliotecario sono distinte in nove aree e costituiscono le articolazioni specifiche dei compiti fondamentali della figura professionale. In particolare le attività A1, A2, A3, A4 sono da riferire al compito 3, l'attività 5 al compito 4, l'attività 6 al compito 2, l'attività 7 e 8 al compito 1, l'attività 9 al compito 5. In questo esempio vediamo come la norma indica i requisiti di competenze, abilità e conoscenze che il bibliotecario deve possedere per svolgere le attività riferite all'area 7, denominata progettazione, valutazione e gestione delle attività e dei servizi di biblioteca. Le competenze professionali del bibliotecario descritte dalla norma UNI sono strettamente correlate alle unità di competenza dettagliate delle 7 aree dell'offerta formativa che descrivono le capacità e le conoscenze adeguate a livelli dei corsi AIB. Nello specchietto potete osservare le corrispondenze esatte tra i due standard. Ad esempio un corso sulla promozione della lettura appartenente all'area 4 dell'offerta formativa AIB avrà la sua corrispondenza esatta con l'attività 6 della norma UNI. Con la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, abrogata e sostituita dalla recente raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2017, viene costituito il quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, che consente ai diversi sistemi nazionali di riconoscere reciprocamente i titoli e le qualifiche quali certificazioni dei risultati di apprendimento, indipendentemente dai contesti in cui tale apprendimento sia realizzato, formale, non formale o informale. L'obiettivo è di supportare la mobilità geografica e professionale dei cittadini europei, studenti e lavoratori, tra contesti territoriali diversi e tra sistemi differenti di apprendimento. Si tratta di uno strumento rappresentato da una griglia di otto livelli, ciascuno dei quali descrive risultati di apprendimento, una combinazione di conoscenze, abilità, grado di responsabilità, abilità, autonomia, secondo un ordine crescente di complessità. Si parte dal livello 1, che indica una complessità minima, per intenderci il percorso scolare obbligatorio, fino ad arrivare al livello 8, che corrisponde ad una complessità massima e quindi ai livelli più alti di istruzione e formazione accademica o professionale, quale un dottorato di ricerca o un master di secondo livello. Il credito è uno strumento utilizzato per misurare la quantità di lavoro o carico di lavoro che serve per raggiungere i risultati in termini di conoscenze, abilità e competenze al termine di un processo di apprendimento. Il carico di lavoro si misura in ore e contempla il tempo per lo studio, la partecipazione in aula, l'esecuzione di prove e di tutte le attività necessarie per ottenere i risultati dell'apprendimento attesi. Per la formazione continua, la nostra associazione professionale si propone di usare la misura di un punto ECVET, che è un sistema di trasferimento di crediti che si applica a tutte le qualificazioni dei sistemi di istruzione e formazione non accademica, per 25 ore di carico di lavoro, equiparandolo in tal modo al sistema ECTS usato per l'accumulazione e il trasferimento dei crediti formativi universitari. In base alla direttiva sulla formazione continua AIB, la montare del numero di crediti necessario per richiedere il rinnovo dell'attestazione è stato definito di un credito annuo, corrispondente a 25 ore di carico di lavoro. Con il primo rinnovo quinquennale dell'attestazione, il numero di ore di carico di lavoro, crediti da ottenere in relazione all'ultimo triennio, sarà quindi pari a 75 ore, corrispondenti a tre crediti complessivi, calcolando un credito all'anno.